partiti cavalli nella nebbia anche nella partenza da duemiladue cinquanta e visibilità pressoché nulla non si riesce a vedere solo le sagome dei cavalli e in seconda posizione sembra wing wolf al comando probabilmente du right ma le immagini sono poco nitide e non è chiaro individuare le posizioni in questa fase della gara e anche lungo la retta opposta con i cavalli che ora dovrebbero essere in prossimità dell'imbocco della curva infatti è du right al comando nei confronti di wing wolf in terza posizione si mantiene just power su taxi deal siamo ora lungo la curva finale sempre du right in vantaggio nei confronti di wild wolf di nuovo nella nebbia i concorrenti lungo l'arco della curva e bisogna aspettare che entrino in dirittura per avere le prime immagini che ora la telecamera ci mostra che è praticamente a metà dirittura vediamo ora le sagome dei cavalli avvicinarsi al tratto più disponibile a visibilità con in vantaggio du right nei confronti di wing wolf più indietro segue taxi deal ed in coda just power siamo a 200 dal palo con du right che viene attaccato a centro pista da taxi deal tra i due e will wolf nel tratto conclusivo all'interno du right a largo taxi deal c'è lotta tra i due con taxi deal che sta passando du right reagisce all'interno i due sono in lotta con taxi deal che sul palo piega du right al terzo posto will wolf più staccato just power rivediamo le immagini che la regia ci sta riproponendo con taxi deal numero 4 da schieramento e paolo aragonica e sul palo piega du right numero 1 quindi 4 1 il probabile ufficioso arrivo della sesta ed ultima corsa di agnano a risentirci fra sette giorni il giorno 30 mercoledì 30 ciao 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 ciao